Ippolit Leon Rivaille Chi era Allan Kardec? Commento Allan Kardec, pseudonimo nell'incarnazione che si considera di Ippolit Leon Rivaille, 1804-1869, fu allievo della scuola di Pestalozzi in Svizzera. Si dedicò allo studio delle scienze e della filosofia e scrisse importanti opere pedagogiche prima di divenire il primo sistematore del contatto con i piani superiori di esistenza. Le opere più significative di Allan Kardec sono Il libro degli Spiriti, prima edizione aprile 1856, per la parte riguardante l'insegnamento. Il libro dei Medium, prima edizione gennaio 1861, per la parte riguardante la prassi medianica. Il Vangelo secondo gli Spiriti, prima edizione aprile 1864, per la parte riguardante i testi sacri. Il Cielo e l'Inferno, prima edizione agosto 1865, per la parte riguardante la giustizia di Dio secondo gli Spiriti. La Genesi, i Miracoli e le Predizioni, prima edizione gennaio 1868. La rivista Spiritica, pubblicazione mensile di studi psicologici, primo numero gennaio 1858. Il primo aprile 1858, Allan Kardec fondò a Parigi la prima società spiritista francese, con il nome di Società Parigina di Studi Spiritici. Kardec trapassò il 31 marzo 1869, dopo una vita dedicata alla divulgazione dei suoi studi, oggi, dell'interpretazione kardecchiana del contatto con i piani superiori di esistenza, molto è stato trasceso. Tuttavia Kardec ha preparato la coscienza del terzo millennio ai successivi insegnamenti dei maestri immateriali.